Ciao da Luci, come avrete visto dalla presentazione, oggi andiamo a realizzare questa bellissima maglia fatta col punto virus, avrete visto che abbiamo il collo tondo, però vi assicuro che parte quadrato. La realizzazione della maglia in sé è la stessa dell'abito virus, quindi non ho rifatto tutto da capo, oggi semplicemente vi faccio vedere le rifiniture, quindi come fare le maniche e quindi le diminuzioni per le maniche e la rifinitura del collo, vi spiego la rifinitura del collo, perché già la realizzazione del vestito virus è la medesima ed era un video abbastanza lungo, quindi avrei dovuto fare un video nel quale vi facevo vedere lo stesso medesimo procedimento, quindi avrei fatto un video doppio e in più avrei dovuto comunque dividere in due parti per poi fare le maniche, perché comunque era un video da 50 minuti e avrei dovuto fare quindi un video da 50 minuti più la realizzazione delle maniche. Essendoci già il video del vestito virus che è identico nella realizzazione alla maglia virus, vi faccio vedere soltanto come fare le maniche. Questa mia maglia virus è realizzata con questo bellissimo filato, io l'ho fatto invernale, l'ho fatta a manica lunga invernale, ma voi potete farla sia con questo filato per l'inverno appunto, sia con un bel cotone da mettere nelle sere freschine d'estate. Ovviamente io soffrendo molto il caldo e non usando la manica lunga d'estate me lo sono già fatto con un filato invernale. Questo filato, sempre della Ice Yams, si chiama Soft Chain Wool ed è un 30% lana, 55% acrilico e 45% poliamide. 50 grammi sono 120 metri e i ferri consigliati sono i 4 mm. Io infatti sto usando un uncinetto del 4. Bene, questo filato lo potete sempre trovare nello shop Italia Artisan. Stanno sotto in descrizione, vi lascerò sia il link diretto a questo filato, che voglio farvi vedere quanto è bello, perché veramente sembra quasi cangiante. Se non sbaglio l'avevo già fatto vedere in una recensione a questo filato ed è molto molto bello. Questa colorazione poi, guardate, ha proprio dei toni verde che va fino al quasi azzurro, ecco. Grigio, verde, azzurro, molte tonalità di verde, vedete qua in alto si vede forse meglio tutte le varie tonalità di verde, di grigio e poi l'azzurro. Quindi veramente molto bello, ma c'è anche in altre colorazioni veramente molto belle. Quindi sotto in descrizione vi lascerò sia il link diretto al filato, sia il link dello shop Italia Artisan. Bene, io direi che possiamo procedere con la realizzazione della nostra manica. Allora, fatto il mio cappietto agganciato all'uncinetto, cosa andiamo a fare? Vedete che qua in mezzo c'è questo foro, questo qua è proprio lo scalfo manica, vedete la parte centrale dello scalfo manica. Allora, voi sapete che dobbiamo andare a fare l'ultimo giro, quello catenella, maglia alta catenella, vedete perché io ho chiuso lo scalfo manica sul giro, l'ultimo giro completo a maglie alte, quindi senza catenelle fra le maglie. Questi li dobbiamo calcolare come due ventagli interi ma separati, quindi in realtà era un angolo ma noi lo calcoliamo come ventaglio intero, quindi come se queste fossero le catenelle tra i due archetti, queste qua, ci andiamo ad agganciare con una maglia bassa proprio qui al centro. Quindi ci agganciamo qui con una maglia bassa, in questo modo, tiriamo un po' il filo e non facciamo altro ora che entrare in ogni maglia alta di ogni archetto, in questo modo, quindi entriamo non in questa perché vedete che c'è già, quindi questa non la contiamo, fa parte del busto, entriamo in questa e facciamo la nostra maglia alta. la catenella di separazione nella prossima maglia alta, catenella, prossima maglia alta, catenella, nella prossima maglia alta, catenella, quindi andiamo a fare l'ultimo giro del punto virus. vedete, stiamo facendo proprio lo stiamo completando il giro del punto virus e dobbiamo fare questo per tutto il nostro giro, quindi senza fare nessunissima diminuzione, ovviamente nel primo giro. quindi andiamo semplicemente a completare il giro che noi ancora non abbiamo completato da questo lato perché ovviamente l'avevamo completato dal busto, quindi continuiamo così, siamo arrivati all'ultima, ovviamente, quindi facciamo la maglia alta senza la catenella, ci fissiamo con una maglia bassa sull'archetto da 3, dopodiché carichiamo e ricominciamo il punto virus normalmente, quindi maglia alta, catenella, sulla prossima maglia alta una maglia alta ed una catenella, sulla prossima una maglia alta ed una catenella. vado velocemente perché si presume che se siete già arrivati a questo punto sappiate già fare il punto virus, quindi posso andare velocemente. quindi io procedo col finire questo giro e ci rivediamo qui dove vi faccio vedere come proseguire. giunti in fondo al giro non dobbiamo fare altro che congiungerci sulla prima maglia bassa fatta sull'archetto sottostante con una maglia bassissima e così abbiamo concluso il giro. ora dobbiamo camminare fino al secondo archetto, vedete questi archettini fatti da una catenella sul nostro ventaglio, quindi dobbiamo camminare fino al secondo di questi archetti, in questo modo, proprio ci camminiamo facendo delle maglie basse. quindi facciamo una catenella, entriamo nel secondo archetto e facciamo una maglia bassa, dopodiché due catenelle invece che tre ed entriamo nel prossimo archetto, due catenelle invece che tre ed entriamo nel prossimo archetto. di nuovo due catenelle invece che tre ed entriamo nell'archetto seguente in questo modo, dopodiché, scusate ho girato il lavoro, vedete, stiamo a creare l'archetto centrale, facciamo normalmente le nostre cinque catenelle, 3, 4 e 5 e quindi saltiamo il primo archetto sull'altro ventaglio, andiamo nel secondo e facciamo la nostra maglia bassa, due catenelle invece che tre, prossimo archetto, maglia bassa, due catenelle, prossimo archetto, maglia bassa, due catenelle, prossimo archetto, maglia bassa. così facendo, stiamo arrivati di nuovo al prossimo archetto da 5, di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, vediamo, li ho fatti tutti gli archetti, sì, quindi saltiamo il primo, andiamo nel secondo e facciamo la nostra maglia bassa, due catenelle invece che tre, prossimo archetto, maglia bassa, due catenelle, prossimo archetto, maglia bassa, due catenelle, prossimo archetto, maglia bassa. Siamo giunti di nuovo a dover fare l'archetto da 5 e lo facciamo normalmente, quindi 3, 4 e 5, saltiamo il primo, nel secondo archetto, ecco qua, scusate, sono entrata nel primo, mi confondo sempre, ecco qua, secondo archetto, entriamo con la maglia bassa, di nuovo, 2 catenelle, prossimo archetto, maglia bassa. Aspettate perché stavo sbagliando, sempre ne saltiamo 1, 2 catenelle, sempre ne saltiamo 1, prossimo maglia bassa, 2 catenelle, ne saltiamo 1, prossimo maglia bassa. Eccoci qua, quindi non facciamo altro che procedere col punto virus, quindi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, saltiamo il primo, nel secondo archetto, maglia bassa, 2 catenelle. Quando dico prossimo archetto, voi lo sapete che comunque ne dobbiamo saltare 1 e andare nel successivo, ma se siamo arrivati qua si suppone che sappiamo già fare il punto virus, quindi io vi nomino soltanto la variazione, cioè che invece di 3 catenelle sono 2 e quindi quando dico prossimo archetto, voi sapete che è riferito al fatto che dobbiamo saltarne comunque 1 tra 1 e l'altro. Quindi siamo arrivati qua, faccio le 5 catenelle, 3, 4, 5 e quindi sono arrivata a fine giro e vado a chiudermi con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa fatta ad inizio giro. Ora procediamo normalmente facendo questo giro, quindi di punto virus normale, sempre, sempre sostituendo le 3 catenelle con le 2 catenelle, quindi non andiamo più a fare normalmente come nel punto virus si alterna 5 catenelle e archetti da 3 catenelle, ma andremo avanti a fare comunque il punto virus normalmente, ma sostituendo le 2 catenelle alle 3. Quindi adesso facciamo insieme questo giro, dopodiché proseguite da soli perché sapete esattamente come proseguire. Quindi fate queste 5 catenelle, io mi alzo con 3 catenelle che sarà l'ultima maglia alta del ventaglio che costruiremo su questo archetto. Quindi quando noi arriveremo a fine giro dovremo fare solo 9 maglie alte qui sopra perché la decima è questa. Quindi entriamo nell'archetto da 2 catenelle e facciamo la maglia bassa, 2 catenelle, entriamo nel prossimo archetto, rimangono più stretti perché sono fatti da 2 e non da 3, maglia bassa, 2 catenelle, prossimo archetto, maglia bassa. Dopodiché andiamo a fare le nostre 10 maglie alte all'interno del nostro archetto da 5. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, Aspetta, 8, 9 e 10. Quindi maglia bassa nel prossimo archetto da 2, 2 catenelle, maglia bassa nel prossimo archetto da 2, 2 catenelle, maglia bassa nel prossimo archetto da 2. E proseguiamo così per i giri restanti a finire questa sequenza. Quindi al prossimo giro faremo di nuovo le 10 maglie alte sulle 10 maglie alte tenendo presente sempre che le catenelle che vanno a comporre gli archettini tra un ventaglio e l'altro sono da 2 catenelle e non 3. Quindi ci vediamo al termine della sequenza del punto virus. Volevo farvi vedere però ovviamente al termine di questo giro come si chiude. Quindi io ho fatto 9 maglie alte e non 10 e ne avevamo già fatte, vedete qua, le 3 catenelle. Entriamo nella terza catenella di inizio e chiudiamo in questo modo. Quindi abbiamo 10 maglie alte. Ora facciamo la stessa cosa. Quindi ci alziamo con 3 catenelle che sarà la nostra decima maglia di questo ventaglio. E proseguiamo come è fatto finora. Quindi entriamo con una maglia bassa nel primo archetto, facciamo 2 catenelle, entriamo nel prossimo archetto. Questa volta vedete l'archetto è solo 1, ne risultano 2 ma perché la prima è la maglia alta di questo ventaglio. Quindi ve ne troverete 2 di archetti ma in realtà è uno solo, questo. E quindi proseguiamo in questo modo col punto virus normalissimo. Quindi andiamo a lavorare sopra ogni maglia alta del ventaglio successivo una maglia alta. E quindi faremo così per tutto il giro e ci vediamo ovviamente dall'altra parte. Arrivata nuovamente alla nona maglia di questo ventaglietto, non devo fare altro che congiungermi sulla terza catenella di inizio. Quindi in questo modo. E ovviamente ecco qua ci siamo congiunti alla decima maglia. Dopodiché facciamo 3 catenelle che sono la decima maglia sempre di questo archetto che costruiremo alla fine. E andiamo a fare direttamente la maglia bassa all'interno dell'unico archetto rimasto al centro. Dopodiché facciamo ovviamente l'ultimo giro della nostra sequenza. Quindi maglia alta, catenella, sulla prossima maglia alta, maglia alta, catenella, prossima maglia alta, maglia alta, catenella. E quindi proseguiamo con l'ultimo giro della sequenza ovviamente del punto virus. Ci vediamo al termine di questo giro. Quindi fatta anche la nona maglia alta dell'ultimo giro su questo ventaglio, vado a fare la catenella di separazione e mi vado a congiungere nella terza catenella, ecco qua, di inizio. E voilà. Vedete? Abbiamo chiuso la nostra prima sequenza. Adesso ve la faccio vedere per farvi rendere conto del fatto che, vedete, noi stiamo già, abbiamo già portato comunque una diminuzione. Tenete presente che la maglia virus, per avere una bella manica, comunque io vi consiglio di tenerla molto attaccata sotto l'ascella. Quindi non lasciate molto spazio sotto l'ascella quando chiudete lo scalfo manica, perché se no comunque vi rimarrà una manica larga. Invece, vedete, noi andiamo stringendola, si vede che comunque si stringe, man mano si stringe, però comunque bisogna partire un po' più stretti di una manica normale, perché non abbiamo modo di poter fare tantissime diminuzioni su questo punto, non è come una semplice maglia alta che io ne vado a togliere una qua e una là e facciamo, diciamo, la diminuzione qua. Sì, si possono togliere delle catenelle e delle maglie, però non abbiamo tantissimo gioco e di conseguenza vi consiglio appunto già di partire con di per sé. Vedete, io ho proprio l'altezza della mia mano tra la spalla e lo scalfo manica, non tanto di più, perché se no dopo... In descrizione vi lascerò comunque tutti i centimetri della maglia, perché così se voi volete comunque usare un altro filato più o meno vi orientate e vi lascerò anche quanti giri ho fatto io, quindi non vi dirò proprio i giri ma vi dirò le sequenze, quindi come sequenza si intende sempre i quattro giri del punto virus. Quindi vi lascerò anche il numero delle sequenze, così potete orientarvi un pochino meglio. Bene, arrivati quindi a questo giro, scusate, rispostiamo un'altra volta il nostro lavoro e procediamo in questo modo. Ora andiamo normalmente di nuovo a camminare lungo le nostre maglie con le maglie bassissime, in questo modo, fino ad arrivare sempre al nostro secondo archetto sopra al ventaglio, quindi sul secondo facciamo la catenella, rientriamo nell'archetto, quindi facciamo la nostra maglia bassa e facciamo sempre le nostre due catenelle, perché ormai abbiamo fatto la diminuzione e continueremo sempre. Ogni volta che io vi farò fare una variazione, quella variazione andrà ripetuta per il resto del lavoro, a meno che io non ve ne faccia fare ulteriori. Quindi questi archetti ormai rimarranno da due, più di così non si può diminuire, quindi saltiamo il prossimo archetto, andiamo in quello dopo maglia bassa, due catenelle, saltiamo l'archetto in quello dopo maglia bassa, due catenelle, saltiamo l'archetto in quello dopo maglia bassa. Ed ora cosa facciamo? Facciamo proprio questo. Adesso invece di fare 5 catenelle ne facciamo 4, 1, 2, 3 e 4. Quindi saltiamo il primo archetto, andiamo nel secondo, quindi 1, 2 catenelle, saltiamo un archetto, andiamo nel prossimo, 2 catenelle, saltiamo l'archetto, andiamo nel prossimo, sempre con la maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo l'archetto e andiamo nel prossimo, in questo modo. Ora facciamo anche qua 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Quindi saltiamo il primo, andiamo nel secondo archetto e facciamo normalmente la nostra maglia bassa, quindi 2 catenelle, saltiamo un archetto nel prossimo maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo un archetto nel prossimo maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo un archetto nel prossimo maglia bassa. Siamo arrivati, scusate, ho picchiato contro la videocamera, arrivati al prossimo invece lo facciamo normalmente, quindi facciamo, togliamo prima una catenella dal primo archetto e una catenella dal secondo archetto che prima erano da 5, adesso sono da 4, ma gli altri, i restanti, li facciamo sempre da 5, li toglieremo nel prossimo, nella prossima sequenza, perché se no andiamo a togliere tutto subito, la manica stringe troppo in fretta e poi non abbiamo più niente da togliere. Quindi questo archetto lo facciamo normalmente da 5, 3, 4 e 5, saltiamo sempre il primo, andiamo nel secondo, di nuovo facciamo le 2 catenelle, quindi proseguiamo così fino alla fine del giro, normalmente quindi dove ci vorranno le 5 catenelle, noi ne faremo 5 e non 4 come all'inizio. segnatevelo perché alla prossima sequenza, ovviamente il primo sarà da 4, il secondo archetto da 5 sarà da 4 e anche il terzo e il quarto, poi per esempio io a me ne rimane solo uno, perché io se non sbaglio ho 5 ventagli, 1, 2, 3, 4 e 5, io per non lasciarne uno singolo li toglierò tutti, quindi a questo giro ne ho tolte solo 2 di catenelle, al prossimo giro le toglierò tutte e 5, quindi una per ogni archetto che vado a costruire. Quindi procediamo in questo modo, adesso normalmente col punto virus per tutta la sequenza, quindi poi faremo normalmente le nostre 10 maglie alte all'interno dell'archetto da 4 e proseguiremo normalmente col punto virus. Ci rivediamo ovviamente alla prossima sequenza dove andremo a togliere altre catenelle, fino ad allora proseguiamo tranquillamente col punto virus normalmente come abbiamo sempre fatto, quindi ci rivediamo appunto alla prossima sequenza. Quindi fatti a diventare tutti gli archetti da 5, quindi gli archetti grossi che abbiamo tra i ventagli, fatti diventare da 4 catenelle anziché da 5, ora andremo a procedere in questo modo. Allora camminiamo sempre lungo la nostra maglia e quindi fino al giro di archetti procediamo nello stesso modo. Quindi siamo sul secondo archetto, rientriamo, facciamo la maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo un archetto nel prossimo maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo un archetto nel prossimo maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo un archetto nel prossimo maglia bassa, 4 catenelle quindi adesso andiamo a farli tutti da 4 io ovviamente ho già fatto le due sequenze per toglierli tutti quindi andiamo a farli da 4 di nuovo 2 catenelle saltiamo un archetto maglia bassa 2 catenelle saltiamo un archetto maglia bassa 2 catenelle saltiamo un archetto maglia bassa di nuovo facciamo 4 catenelle 1, 2, 3 e 4 quindi andiamo avanti così per tutto il giro quindi dove c'erano le 3 catenelle andiamo avanti a farne 2 dove c'erano le 5 catenelle andiamo avanti a farne 4 ci vediamo in fondo al giro perché ovviamente abbiamo un'altra variazione nel prossimo giro finito questo giro facciamo le nostre solite 1, 2, 3 catenelle che sarà la prima l'ultima maglia non la prima di questo ventaglio quindi quello che faremo alla fine entriamo nell'archetto e facciamo maglia bassa 2 catenelle prossimo archetto maglia bassa 2 catenelle prossimo archetto maglia bassa eccoci qua quindi arrivati a questa nuova variazione quindi carichiamo entriamo nell'archetto dove normalmente avremmo fatto 10 maglie alte ma ne andiamo a fare soltanto 8 quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 quindi andiamo avanti normalmente a fare la maglia bassa nel primo archetto le 2 catenelle la maglia bassa nel prossimo archetto 2 catenelle la maglia bassa nell'archetto successivo scusate che giro il lavoro perché ecco qua dopodiché anche in questo andiamo a farne soltanto 8 quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8 da qua in poi procediamo normalmente come richiede il punto virus quindi va beh a parte la variazione delle 2 catenelle sapete come vi ho già detto che le variazioni vanno mantenute però andiamo a fare 10 maglie alte nel prossimo sul prossimo archetto da 4 catenelle quindi andremo avanti a fare 10 maglie alte in tutti gli altri archetti da 4 catenelle andiamo avanti così fino alla fine del giro fatto anche questo giro dove abbiamo tolto 2 maglie dal primo archetto e 2 maglie dal secondo archetto andiamo a lavorare normalmente come richiede il punto quindi semplicemente punto virus come con le variazioni che abbiamo fatto fino adesso ovviamente lavorando le maglie come si presentano quindi ovviamente dove ce ne sono 10 ne lavoriamo 10 dove ce ne sono 8 ne lavoriamo 8 ovviamente una maglia sopra ogni maglia e anche il giro dopo andremo a lavorarle come richiede il punto virus quindi maglia alta catenella maglia alta sopra ogni maglia e ovviamente togliendo gli archetti come prevede il punto né più né meno quindi la variazione sta soltanto nel primo e nel secondo archetto togliere 2 maglie alte faremo così anche nel giro dopo io le toglierò poi tutte insieme anche nel giro dopo perché ho 5 sempre 5 ventagli di conseguenza non vado poi a toglierne altri 2 e poi fare un giro togliendone soltanto facendo solo una variazione ma le toglierò tutte insieme quindi nella prossima sequenza io farò tutti i ventagli da 8 però naturalmente ci vediamo prima perché vi devo far vedere come procedere poi sui ventagli da 8 quindi questo giro andremo a togliere ovviamente andremo a fare tutti i nostri ventagli da 8 maglie però prima ovviamente dobbiamo costruire i nostri archetti da 2 e archetti da 4 e ovviamente li dobbiamo costruire su dei ventagli più piccoli quindi cosa facciamo andiamo nel primo quindi camminiamo sul primo e sul secondo come si dice archetto da una catenella quindi facciamo la nostra maglia bassa 2 catenelle ne saltiamo 1 andiamo nel prossimo 2 catenelle ne saltiamo 1 andiamo nel prossimo 2 catenelle ne saltiamo 1 andiamo nel prossimo vedete che non ne rimangono più 2 ma entriamo proprio nell'ultimo archettino da 1 quindi facciamo le 4 catenelle saltiamo sempre nel secondo quindi saltiamo il primo archetto entriamo nel secondo in questo modo e di nuovo 2 catenelle 2 catenelle e 2 catenelle e quindi ci ritroviamo sempre nell'ultimo scusate qua ho sbagliato devo saltare nel primo nel primo archetto perdonatemi quindi come qua è il primo qua è anche il primo quindi 2 catenelle ne saltiamo 1 andiamo nel prossimo 2 catenelle ne saltiamo 1 andiamo nel prossimo 2 catenelle ne saltiamo 1 andiamo nel prossimo come vedete in pratica io ho lavorato nel primo e nell'ultimo e comunque i miei 3 archetti da 2 catenelle quindi di nuovo 4 catenelle 1 2 3 e 4 e adesso siccome questo archetto è di nuovo da 10 non saltiamo nel primo ma nel secondo e andiamo a fare normalmente tutti i nostri archettini come fatti fino ad ora quindi 2 catenelle saltiamo 1 archetto andiamo nel prossimo 2 catenelle saltiamo 1 archetto andiamo nel prossimo vedete terminiamo di nuovo nel penultimo l'ultimo lo saltiamo saltiamo il primo dall'altra parte facendo le 4 catenelle e andiamo nel secondo e facciamo così ovviamente per tutto il resto del nostro giro in questo giro in questa sequenza andremo a lavorare sempre 8 maglie alte all'interno di ogni nostro archetto da 4 catenelle quindi procederemo in questo modo per tutta la nostra sequenza quindi ovviamente poi lavoreremo sempre 8 maglie alte sulle 8 maglie alte e 8 maglie alte separate da una catenella sulle 8 maglie alte separate da una catenella quindi fino ad avere tutti i ventagli da 8 completamente lavorati a punto virus normalmente quindi ora facciamo tutto il giro come abbiamo fatto prima ad inizio giro e poi abbiamo proseguito normalmente quindi cosa facciamo camminiamo fino al primo archetto creato dalla catenella di separazione tra le maglie quindi questo qui è il primo e facciamo una catenella rientriamo facciamo la maglia bassa 2 catenelle saltiamo 1 maglia bassa 2 catenelle saltiamo 1 maglia bassa 2 catenelle saltiamo 1 maglia bassa quindi siamo nel primo 1 2 3 4 catenelle di nuovo nel primo scusate con la maglia bassa nel primo archetto da 1 quindi 2 catenelle saltiamo un archetto maglia bassa 2 catenelle saltiamo un archetto maglia bassa 2 catenelle saltiamo un archetto maglia bassa e quindi ci troviamo nel primo 4 catenelle di nuovo primo archetto 2 catenelle saltiamo un archetto maglia bassa 2 catenelle saltiamo un archetto maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo un archetto, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, entriamo nel primo archetto, 2 catenelle, saltiamo l'archetto, maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo l'archetto, maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo l'archetto, maglia bassa, scusate, volto il lavoro perché ho attaccato la maglia, 2, 3, 4, quindi primo archetto, 2 catenelle, saltiamo maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo un archetto, maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo un archetto, maglia bassa, quindi 4 catenelle, abbiamo fatto tutto il giro insieme perché è piccolino, ci congiungiamo nella prima maglia bassa di inizio giro, in questo modo con la maglia bassissima come fatto fino ad ora. Ora cosa facciamo? Facciamo sempre le 3 catenelle che sarà l'ultima maglia dell'archetto sul quale stiamo lavorando, entriamo nel prossimo archetto che è questo qui, maglia bassa, 2 catenelle, prossimo archetto, maglia bassa, 2 catenelle, prossimo archetto, maglia bassa ed ora andiamo a fare 7 maglie alte all'interno di questo archetto e lo facciamo quindi per 2 ventagli, quindi facciamo 2 ventagli da 7 e i restanti da 8 maglie alte, quindi 2, 4, 5, 6 e 7, maglia bassa nel prossimo archetto, 2 catenelle, maglia bassa nel prossimo archetto, 2 catenelle, maglia bassa nel prossimo archetto e di qua di nuovo 7, dopodiché riprendiamo a fare i ventagli da 8. Nella prossima sequenza andremo a togliere a tutti i ventagli quest'ultima maglia alta, quindi rendendoli tutti da 7. Ora per non farvi vedere di nuovo la sequenza perché sennò diventa lunghissimo questo video, vi dico che quando poi andremo a fare gli archettini da 2 e ci agganceremo tra, vedete, le maglie alta, catenelle, maglia alta, siccome ne avremo una in meno, l'ultimo ventaglio lo facciamo senza saltare l'archetto, quindi in due archetti consecutivi, questa è l'unica variante. Dopodiché ci vediamo al momento di togliere anche le ultimissime maglie ed arrivare appunto in fondo alla manica, quindi ci vediamo tra due sequenze. come potete vedere la manica sta stringendo, vedete, molto lentamente, come giusto che sia, sta stringendo. Allora io in questo momento ho fatto, ho concluso il primo giro che era quello che restava dallo strone senza diminuzioni, poi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri di diminuzioni, ora andrò a fare altri due giri nei quali, due sequenze, ecco non giri, sequenze che ci serviranno per arrivare ad avere sul ventaglio da 7 maglie, quali sono adesso, 6 maglie e poi ne faremo altre due sequenze da 5 maglie. Quella da 5 maglie sarà l'ultima e per avere l'ulteriore diminuzione non faremo altro che fare il terzo giro della sequenza, quindi anzi il quarto, scusate perché il primo è quello degli archetti, il quarto giro della sequenza senza la catenella di separazione tra le maglie, quindi ogni due giri, quindi faremo le diminuzioni spalmate sempre in due sequenze, quindi da 10 siamo passati a 8 in due sequenze, parlo sempre delle maglie dei ventagli, da 8 siamo passati a 7 in due sequenze, da 7 passeremo a 6 in due sequenze e da 6 passeremo a 5 in due sequenze. Ovviamente quello che a voi cambierà saranno gli archetti da 2, perché? Perché gli archetti da 2 non avranno più gli spazi necessari per essere collocati come quando abbiamo 10 maglie, quindi man mano andremo a, prima saltiamo una, entriamo con la maglia bassa in un archetto e ne saltiamo uno, poi man mano che restringiamo andremo sempre a saltare meno archetti, fino a lavorare in tutti gli archetti da 2 la nostra maglia bassa con le due catenelle e questo sarà fino alla fine della manica, ecco, ho voluto dirvi poi, capito il procedimento adesso perché l'abbiamo visto spalmato su un'intera manica, basta dirvi quante maglie togliere, perché sennò il video diventa veramente troppo lungo per la spiegazione di una manica e quindi sono sicurissima che riuscirete benissimo, ho capito il concetto, a proseguire da soli, noi ci vediamo alla fine quindi del nostro lavoro, ecco qua finite tutte e due le nostre maniche, il collo come avevo detto all'inizio, come avete visto, ho fatto semplicemente 5-6 giri di rifinitura a maglia bassa e poi ho messo puramente estetico un bottone laterale, ovviamente vi lascio poi in descrizione la quantità di filato che ho utilizzato, vi invito ad andare a vedere lo shop Italia Artisan dove trovate questo e tanti altri bellissimi filati Ice Hands, vi lascio sempre tutto in descrizione, vi mando un grosso bacio, so che è stato un po' lungo il tutorial di questa manica ma effettivamente se si vuole una manica bella così che va a stringere un po' affusolata e ci vuole insomma il suo tempo per poterlo spiegare, io vi mando un grosso bacio, vi do appuntamento al prossimo tutorial, vi invito a iscrivervi al mio canale, vi invito anche a venirmi a trovare nel mio gruppo Facebook Creando con Luce Franci, un bacione da Luci, ciao ciao e al prossimo tutorial, ciao!